Olè, è molto bella, buon colino, ma come sei bella, eh? Come sei bella, bella questa cantina, mangia tutta la pappa, ah, com'è bella. Olè, c'è chi va, wow, 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 ecco qua, brava, 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 ucculina, brava, brava, ma come sei brava? Ah, aspetta, togliamo la pappa, eh. Pappa? Mangia la pappa, non hai più fame, pappa, pronti, via, ecco qua. Brava, 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 eh, 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 eh no Qua, 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 qua. Aspetta, aspetta. Lascialo. E cosa abbiamo finito? Abbiamo finito così? Brava, brava, brava. Guarda. Guarda questo. Brava, brava. Guarda il pane il pane. Guarda il pane. Guarda il pane, chilling. Tiene! Tiene! La perla che la tiene di pelo Hola! e da quanto è quello mamma mia poveretta 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 Grazie a tutti.